Eccoci qua a giocare nella spadona bellissima oh yeah E ovviamente Nick anche oggi dobbiamo insomma dobbiamo un po' combattere capito? Ma di nuovo? Sì 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 di nuovo infatti adesso mi sposterò un attimo in questa stanza e poi ti farò sapere Allora praticamente ragazzi come nello scorso video di questa serie cosa vado a fare oggi? Vado a fare uno scherzoni a Nick dicendogli eh andiamo a trovare un po' di armi in giro Perché questa mappa chiaramente spero che arrivi il mago della pioggia del sole del dio solare praticamente vabbè non lo so Comunque in poche parole niente gli faremo uno scherzo a Nick Allora Nick invochiamo il dio capito del sole piovone Allora aspetta non riesco a farlo come faccio? Dio dio yuhu yuhu dacci il sole dacci la felicità dacci la luce che c'è in ogni nostro cuor Affinché l'oscurità possa scomparire vedi ha funzionato sempre Ma sei fortissimo Sì sì ma perché io sono in diretta comunicazione con il dio di Minecraft Che non non è non è non è non è uno in particolare che inizia con la n Sai cosa stai trovando in giro? Oh probabilmente ho trovato un arco buono devo dire Un arco buono? Più la freccia Ok perfetto e con questo arco buono cosa ci vuoi fare? Eh tirarti l'arco e tirarti la freccia Io sto cercando di trovarti qua in giro Cioè io sto cercando chiaramente armi un sacco di armi E guarda Nick dalla scorsa volta ovviamente non non ti farò più lo scherzo Perché stavolta ho detto che appunto sarà una cosa normale E quindi anche tu Sarà meglio per te Sì 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 no certo Anche perché poi forse adesso avrei davvero la possibilità di perdere Tu invece stai trovando armi? Sì ho appena trovato una spada laser Ok non va bene la spada laser ovviamente Ma come non va bene? Ma perché? Perché la scorsa volta mi stavi ammazzando anche con l'armatura super pro Cioè è un po' troppo la spada laser Toglitela dalla mente Cioè non vabbè togli Ma dai ma perché? Ma fa solo 25 di Fa solo 25 di quelli d'anno Sì sì solo solo sì Toglila Prima che Prima che io decida di metter Vabbè guarda non posso dirti Però in poche parole adesso No ma dove sei finito? Perché sto girando in tutta la mappa Ogni volta che mi devo ti parto a te Mannaggia te Ma anch'io ti sto cercando Ma non ti trovo Sono in giro a frittura Cosa? Sono arrabbiato Arrabbiati Che mi interessa Che pizza Io veramente è scioccato da te e dalla tua stupidaggia Ah te è scioccato da me? Eh sì Scusa questo tono Questo tono qua come pensi di risolverlo? Dimmi un po' tu Cioè nel senso pensi di continuare ad andare avanti con questo tono oppure Ma che senso con questo tono? Di sfida Di sfida nei confronti di unis Eh sì ma perché ti sto sfidando perché devi venire a decidermi sempre se ci riesci Sì certo ci riuscirò sicuramente Vabbè allora vengo chiaramente Allora tira Va bene vieni TP Nick Però scusami un attimo No però Devo Allora prima direi di trovare altre armi Perché ovviamente Nick parla prima che io mi Ok ok Ma te comunque hai trovato un'armatura Io no Non è vera questa cosa Io ho trovato parte dell'armatura Che però chiaramente tipo il cappello non ce l'ho Capito? Sì sì Infatti adesso tu dovresti concentrarti a parlare Senza fare mmm come Gabri che faceva nel primo video Mmm Non ricordiamo queste cose Vabbè lasciam perdere che infatti è meglio Non andate mai a vedere il primo video perché è terribile ragazzi No no è bellissimo Guardatelo tutti No smettila Allora poi qua ho visto qualcosa Ho visto una corona Mmm Questa corona dipinta Chi è che l'avrà fatta eh L'avrà fatta una persona Che lavorava per il re forse Eh Magari questo re aveva poteri magici strani Magari comunicavano con altre dimensioni Magari era il capo di una setta segresa Magari era il capo Di Di un Una setta che faceva Che faceva portali per condurre In altre dimensioni Che faceva il vino Qua quale vino No non sta Che caspita stai dicendo È buono il vino Mi dissocio No non è Non mi piace a me il vino Ah veramente Sì non mi piace Ma poi fa schifo Non mi piace Comunque non parliamo del vino Parliamo di Nick Io per esempio ora sto viaggiando su questo coso Perché sto cercando di trovare Su cosa cosa Su questo coso rosso Su questo tappeto Sto cercando di trovare altre armi buone Ma non le sto trovando Quindi io direi Assolutamente di Ricongiungerci chiaramente Sono dove c'è un tappeto rosso Tipo una cattedra Sì sì Beh certo che tu sei proprio Mamma mia quanto Oh però certo Devo dirti In questo periodo Sei migliorato tantissimo a parlare Cioè proprio Non fai più Gli stessi errori Che facevi una volta Vero? No 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 infatti Guarda Io mi stupisco molto Di questa cosa Sai forse la concentrazione Sarebbe il tuo Prima La prima cosa Che dovresti migliorare Nel tuo encefalo Ma certo Quindi dovresti concentrarti Di più Nick Magari a parlare Certo Certo Quindi adesso Mi tipo da te Ok Ti ammazzo Perché Non ti dovresti Ma dovevano dir via Non vale Vabbè allora Ti puoi tipare Allora mi tipo Tipi Nick Dunis Chiaramente Niente Possiamo Possiamo dirci Andarci lontano No perché mi ha fatto Innervosire Molto innervosire Non si fa questa cosa Cattivo Cattivo Ma non è vero Ma cosa ho fatto Dai Alla fine fine Se l'ho parlato Male Sì Hai parlato male Sai che nei video Vabbè l'importante È che si parla Dai No l'importante È che si parla bene Ovviamente Se no sembra Che tipo Ma poi c'è Tipo io a vedere Quei video Vabbè lasciamo Non parliamo Comunque Sono molto fissato Sul parlare Perché 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 Se no Mi vengono le travecole Cioè tipo Mi sale Ma te ne hai già di suo Ancora hai parlato male Ma come fai Scusami Ma non so parlare Sono italiano Ma non so parlare Eh Ma non sento 7 in grammatica Mi stupisco Non ci interessa niente Del 7 che hai tu Poi Scusami un attimo Ma tu hai due in tutto Vigoriamoci se hai 7 Ma non è vero Ma c'è veramente Ma veramente pensi Che a qualcuno interessi Di che voto hai Tu Eh vabbè No Allora Prima regola Mai parlare di cose personali Nei video Perché hai parlato tu invece È schifoso Perché hai parlato Cosa non vale No 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 Perché hai parlato di cose personali Che non interessava assolutamente A nessuno Del tuo voto in grammatica Peraltro pure falso Perché Scusate Ragamacenze Ma tipo Cioè Questo qua che non sa parlare Appunto esatto Cioè Infatti Cioè boh Scioccato totalmente Da questo tipo di persona Però comunque No dai scherzo Comunque siamo amici Purtroppo No Io me ne vado No io me ne vado Stai scherzando Eh ma se io Tipo adesso tu Fermati un attimo Di dove sei Eh Perché praticamente Io Non sai cosa sto per fare In questo momento Ma in poche parole Io sto cercando di Trovarti Chiaramente Ma non trovarti In modo normale Trovarti in modo Snichi Snichi Ho detto di stare fermo Perché ti stai muovendo Come mi fai vedere Che mi sto muovendo No mi stai seguendo Vedo il tuo nome Vedo il tuo nome No non ti faccio paura Te lo dico io Che non ti faccio paura Mi ero dimenticato Aia non vale Aia cos'è No 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 Però questa metallietta Mi sta sul ca Cioè Non è bello Cioè è brutta È orribile Non ti permettere mai più di Come ti sei permesso Tu schifoso 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 No 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 Aiuto Cos'è successo Che tutto ad un tratto Tu ora non muori più Sono troppo forte Se fortissimo Vieni qua allora No 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 Perché se quei le armi Io invece sono un arco brutto No non è bello Ma non ho armi Perché dici che ho armi Questa cosa Nick Io ti sto odiando Con tutto il mio Vieni qua perché Ti devo ammazzare Cioè non è possibile Non vengo là da te Mostro No allora Maniaco Vieni qua Cioè ho veramente No sto scherzando Chiaramente Dico maniaco Ma su minecraft E soprattutto Maniaco in senso Scherzoso Allora Certe cose Non sembra di doverle Precisa Nick Se mi spari ancora una volta Giuro Che mi arrabbio talmente Tanto che spacco qualcosa Che la mia ira Che la tua ira Si abbatterà su di me Sì Soprattutto perché stai Mamma mia Ma due parole in croce Puoi dirle per favore Ma non so parlare Eh vedo Vieni qua Oh smetti di scappare Che dobbiamo fare tutto il video Così Mannaggia a te Vieni e confrontati Oh Non vale Eh non vale Oh ho vinto Non vuole un fucile a pompa E quindi cosa vuol dire Questa cosa Che mi hai ucciso Di conseguenza Cioè Io invece ho solo un arco E una spada Ti ho ucciso Ed è giusto Che ti abbia ucciso Perché sono stato il Migliore in questo caso No Ma cosa È stato il peggiore Perché io ti stavo Priciore Perché erano state Devevo delle armi Peggiore delle tue Allora lasciamo decidere I ragazzi nei commenti Ragazzi secondo voi Qual è stato il migliore Secondo me Sono stato io Perché chiaramente Ho vinto tante volte Io anche se In questo caso Ho fatto di nuovo Lo scherzo a Nick Però Vabbè Rosicone 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 E quindi Rosicone Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao